Dopo il parto, verifica che i medici le abbiano mentito sugli ultrasuoni del suo bambino. Nancy Ray e suo marito Will sono una coppia amorevole completamente dedicata alla cura dei loro figli. La nascita del suo terzo figlio è stata qualcosa di molto speciale. Negli anni precedenti erano già diventati padre di due ragazze e durante quelle gravidanze avevano deciso di non conoscere il genere del bambino per essere sorpresi al momento del parto. Tuttavia, una volta saputo che stava arrivando un terzo bambino, Will decise di fare le cose in modo diverso. Mio marito ha insistito per conoscere il genere del bambino in modo che potesse prepararsi se fosse diventato padre di tre ragazze. Pertanto, sono stati effettuati diversi test per determinare il sesso del bambino. In tutti gli esami i medici hanno indicato che erano sicuri che sarebbe stata un'altra ragazza, quindi hanno iniziato a preparare tutto per l'arrivo della sorella minore. Nancy, Will e i loro figli vivono nella città di Salem negli Stati Uniti. La gravidanza è andata molto bene, ma negli ultimi mesi hanno iniziato ad arrivare forti tempeste nella Carolina del Nord, così Nancy e Will si prepararono ad avere tutto il necessario nel caso in cui la consegna fosse avvenuta senza elettricità. Ci sono tempeste di neve e grandine. Sono abbastanza sicuro che parturirò senza elettricità. Come se i nervi fossero pochi, sia Will che Nancy sono stati molto colpiti dal cambiamento di temperatura e hanno preso un raffreddore proprio quando pochi giorni prima del parto. Nancy si sentì di nuovo come i primi mesi della sua gravidanza e soffrì di vomito costante, temendo che la salute della sua bambina sarebbe stata compromessa. Nancy è entrata in travaglio tre giorni dopo il previsto. Poco dopo arrivò il grande giorno. Nancy iniziò ad avere forti contrazioni e andò in un centro di consegna. Poiché era la terza volta che vivevano questa esperienza, pensavano che tutto sarebbe stato molto semplice, ma una grande sorpresa li ha lasciati completamente senza parole. Il mio bambino è nato in una vasca e quando siamo andati a tagliare il suo cordone ombelicale l'ho visto e ho pensato che cosa è questo? I dottori si erano sbagliati. Nancy aveva appena dato alla luce un bellissimo bambino e un fotografo era lì per catturare la divertente reazione dei genitori quando lo scoprirono. Le immagini scattate da Lauren Jolly Thomas sono un'opera meravigliosa in cui possiamo sentire la giostra delle emozioni che i genitori hanno vissuto in un momento tanto importante quanto la nascita del loro bambino. È la mia foto preferita di tutti i tempi, quindi sosterrò sempre le foto della nascita. Non c'è dubbio che si tratta di una fotografia davvero unica che dimostra la bellissima esperienza di diventare genitori. Sicuramente, quando questo bambino crescerà, si godrà il bellissimo aneddoto della sua nascita. Condividi questa meravigliosa storia per celebrare una delle foto più popolari degli ultimi mesi. Grazie a tutti!